Conoscevo Marco di Capua, sindaco di Chiaveri, e per questo racconto di lui. Il 22 luglio la seconda dose, e il resto lo sai, il 23 agosto come un cane crepò. Ma io un sogno almeno, e non ce l'ho, voglio vedere se toti la palla di lardo, ai suoi funerali almeno si presenterà. E voglio vedere che faccia che ha, lui e Bassetti e altri coglioni, che l'hanno ucciso, ammazzato come un cane in questa città. Se davvero mi aspetto un miracolo. E adesso vediamo a Chiaveri come va la campagna vaccinale, l'Uri di Maiali. Iscrivetevi al mio canale.